Superano i 229 milioni di euro gli investimenti finanziati dalla regione Marche nella provincia di Pesaro e Urbino dal 2015 al 2019. Oltre 223,4 milioni hanno riguardato gli interventi sostenuti con i fondi regionali ordinari, mentre più di 5,7 milioni sono stati promossi con le risorse del sisma. E' quanto emerge dalla rendicontazione presentata dal presidente Luca Ceriscioli alla stampa presso la sala del consiglio della provincia. Parliamo di circa 230 milioni di investimenti in 4 anni classificabili in macro categoria. La prima è quella delle connessioni, intesa come strade. Dopo molti anni con il passaggio delle strade della provincia della regione abbiamo investito oltre 30 milioni nella viabilità di questo territorio andando a recuperare situazioni che erano in difficoltà compromesse. 25 milioni nella banda ultralarga per portare la fibra ottica in ogni parte di questo territorio. Una terza voce sulle connessioni in termini di importanza sono le ciclovie. 13 milioni di euro che permetteranno di rafforzare la ciclovia adriatica, nonché gli assi che dalla costa vengono nell'area interna. Un secondo capitolo sull'edilizia per avere edifici più sicuri e qualificati. In modo particolare in questo caso è l'edilizia scolastica. Tutto sono 100 milioni, una trentina di milioni in edilizia scolastica. Dentro un quadro regionale che ha visto oltre 500 interventi a favore delle scuole per la loro messa in sicurezza. La terza voce, non meno importante, è la difesa del suolo. Parliamo di 27 milioni di euro fra la difesa della costa, il tema delle frane e dei fiumi. Ceriscioli ha voluto poi sottolineare un dato, quello della difesa del suolo. Nel suo programma amministrativo afferma che raddoppierà i 50 milioni di euro investiti, mentre per gli investimenti in edilizia sanitaria il nuovo ospedale unico non rientra nel rendiconto proposto in quanto non ancora realizzato. Il presidente della regione ha tratto complessivamente un bilancio di quasi 30 milioni già investiti nelle strutture sanitarie del territorio, di cui 12 milioni Urbino e oltre 4 milioni per gli ospedali di Cagli e Pergola. Gli investimenti della regione si sono focalizzati anche sui temi della genitorialità, scuola e lavoro. Pensiamo alla famiglia dove c'è stato un grosso investimento sui nidi, sulla conciliazione. Il prossimo bando uscirà per le donne che hanno bisogno di stare a casa con i bambini piccoli. Accanto a questo parliamo della scuola, parliamo di un investimento forte sull'edilizia scolastica, ma parliamo anche della volontà di mantenere i presidi territoriali, perché nessuna scuola è la succursale della città. Sul fronte del lavoro il grosso investimento ultimo sono stati i 27 milioni per la creazione di impresa, sono i 49 milioni sui disoccupati, sono gli 8 milioni sugli ITS e gli FTS, quindi 8 più 2, 10 e una ventina di milioni sulle filiere, che è un'altra cosa. Grazie.